vi mostro la tecnica per disegnare sopracciglia effetto naturale parto dal centro del viso e creando dei piccoli tratteggi intensifico naturalmente le sopracciglia questa matita è perfetta per chi vuole delle sopracciglia naturalmente più intense e piene una volta applicata la matita utilizzo lo spazzolino di cui dotata per pettinare perfettamente le sopracciglia l'Ibro Pencil è perfetta per chi vuole un effetto delle sopracciglia naturale riempitivo e a lunga tenuta perché è waterproof utilizzo la parte matte del Duo Pencil Matte & Shine che è ideale per ridisegnare perfettamente l'arcata sopraccigliare essendo altamente coprente corregge anche le piccole discromie e imperfezioni della pelle del viso creo dei preziosi punti luce sotto l'angolo dell'arcata sopraccigliare utilizzando la parte shine è perfetta anche vicino al condotto lacrimale sul dorso del naso e sull'arco di cupido infine utilizzo eyebrow plumping gel un gel sopracciglia infoltente che non solo le fissa ma le rende anche più folte e più intense di colore questo gel è perfetto se utilizzato alla fine dell'applicazione dei prodotti sopracciglia ma è anche bellissimo utilizzato da solo per un effetto assolutamente naturale